Nuova puntata di B-Side, questa volta un po' particolare, nel senso che ci troviamo dal vivo, sperando di non replicare il disastro che era successo subito dopo Natale, quando abbiamo provato a registrare The Long Run e solo il microfono di Marcello ha funzionato dei tre, ci troviamo dal vivo perché ci sono un sacco di novità. L'ultima volta ne abbiamo parlato via Zoom, via Internet, era proprio dopo The Running Event, quindi ne avevamo parlato guardando un sacco di immagini, questa volta possiamo parlarne tastando il prodotto del Vero. Provando un po' di cose, l'abbiamo chiamato un hands-on in realtà, no? Esatto. Perché l'idea è oggi di non fare delle vere e proprie recensioni. First look. First look, esatto. Primo sguardo a... Qualcuno di più magari navigato in un luogo chiamerebbe unboxing perché a tutti gli effetti abbiamo aperto una ventina di scatole e quindi... Sì, però sarebbe stato più o meno veramente 20 minuti di noi che apriamo le scatole, tagliamo i cordini, togliamo la carta. Abbiamo annusato tutte le scarpe, però l'idea è secondo me di poter avere finalmente in mano qualcosa di cui abbiamo chiacchierato a lungo e comunque non solo su B-Side ma anche su altre chat, un po' sneak peek, qualche anticipazione qua e là e oggi finalmente possiamo prendere in mano, fare delle considerazioni sempre, secondo il mio punto di vista, come se fossero veramente una prima preview. Perché neanche, tanti prodotti neanche li ho messi ai piedi ancora e sono arrivati, contestualizziamo, grazie a Skial perché appunto ci dà ci dà un po' di mano in questo senso, grazie alle scarpe che poi vanno in recensione ad aprile con la Outer Guide e per ora specifico che non sono recensioni ma solamente dei primi pareri, anche perché le scarpe sono letteralmente appena uscite dalla scatola, quindi hanno ancora quel buon odore. Dicevi giustamente è finita forse, soprattutto per questa puntata, la stagione del ti mando uno screenshot grabato da una foto di dimensione 200 pixel per 60 che va zoomato all'infinito, possiamo guardare le cose. La prima cosa che andiamo a vedere, ne abbiamo parlato ovviamente su The Running Event, le avevamo parlato nella puntata di Chamonix, mi pare, di B-Side, perché comunque c'era questa scarpa misteriosa che doveva uscire, parliamo di Montblanc Carbon. Secondo me già dal video, per chi ha la possibilità di vedere il video si vede già una grossa differenza che è questo angolo della scarpa. Sì, esatto, e noi abbiamo, forse è stato uno dei prodotti che ci era piaciuto di più ormai due anni fa, perché era uscita due anni fa nella prima iterazione e era piaciuto tantissimo a entrambi e a me era veramente impressionato come altra fosse riuscita a fare un prodotto veramente che si percepiva come da gara, era ligera, era energica sotto il piede, rimbalzina, però chiaramente aveva un grosso bias sulla talloniera che purtroppo non avevano sistemato neanche con la versione 2.0 che era quella che montava il BOA. Quindi a tutti gli effetti questa monta il nome Montblanc perché richiama quel tipo di struttura lì, però è un'altra scarpa. Tantissime novità e direi forse la più evidente è senza magari il peso, nel senso non è una cosa che è drammaticamente cambiata, però è secondo me sinonimo di tutta una serie di modifiche che sono state fatte sulla scarpa. Forse la prima versione di Montblanc c'era tanto un tentativo di provare a innovare, a fare una cosa molto particolare, a fare una cosa racing, a fare una cosa un po' slegata da quella che era le linee di prodotto di altra e ne avevamo detto forse in recensione o comunque ne avevamo detto anche su B-Side era secondo me uno dei pochi prodotti versione 1 usciti bene in via di massia. Secondo me questa è la versione rifinita, questa è la andare a perfezionare quello che c'era del prodotto. Una cosa era da sistemare sicuramente sulla, adesso giusto per non calcare troppo, però è stato sistemato il collarino, adesso è anatomico, nel senso che comunque è leggero e segue le linee del piede garantendo al malleo di sedere bene, ma dietro va a chiudere di più. E l'altra cosa che è cambiata radicalmente è che c'è una piesta in carbonio dentro. Assolutamente, del nome. La schiuma Ego Max che utilizzava, Ego Pro, che utilizzava la scorsa Mont Blanc, aveva la capacità di essere molto elastica pur mantenendo un buon grado di ammortizzamento, però risultava, non voglio chiamarla instabile, però nella sua essere elastica non consentiva una corsa proprio tranquilla, bisognava utilizzarla tutto sommato di buon passo, era molto divertente, probabilmente era inadatta ad alloggiare una piastra, che nel caso di altra è una piastra Carbitex, quindi ispirata allo stesso concetto che utilizza Speedland per esempio, o Saucony per le scarpe da trail con piastra, però probabilmente la schiuma Ego Pro non era adatta a reggere la torsione, la capacità torsionale della scarpa senza snaturare lo zero drop e quindi ascoltavo i loro tecnici a The Running Event, la scarpa è stata creata con un concetto a doppia schiuma, c'è un layer che viene chiamato adaptive layer, quindi una barchetta, anzi a tutti gli effetti una vaschetta di schiuma all'interno, che non copre l'interno della scarpa, solamente l'esterno, una specie di calottina protettiva e all'interno può essere vista sotto la soletta, può essere toccata, si sente che c'è un energy layer, come lo chiamano loro, quindi è sempre un Ego Pro, il loro materiale più reattivo, però a densità più morbida, quindi la puoi sentire anche tu, è molto molto molleggiato all'interno della scarpa, mentre all'esterno è più denso, più stabile, quindi garantisce stabilità e protezione, questa cosa l'avevamo vista anche con Zegama l'anno scorso, quindi il prodotto in Zoom X era protetto da un layer esterno, una specie di capsula. Altri cambi, lacci, che anche quello era stata una delle cose criticate, erano dei lacci a sezione circolare, che comunque non erano tanto apprezzati, devo essere sincero, io non ho mai avuto problemi con i lacci di Montblanc, l'altra modifica è dedicata alla Tomaia, la Tomaia della prima Montblanc era molto comoda, era molto calza, mettiamola così, l'hanno resa un pochettino più resistente, un po' più strutturata, molto comoda comunque come scarpa, resta decisamente un prodotto comodo, molto interessante e tanto interessante da, secondo me, questo da provare sarà una delle scarpe di quest'anno. A una prima calzata l'ho sentita un po' più sorda rispetto alla Vecchie Montblanc che appena la mettevi si trasmetteva quella sensazione di slancio perché era proprio molto elastica la scarpa. Probabilmente questa zeppa qui in eva un po' più, eva leggera esterna che protegge le GoPro all'interno smorza un po' di più le sensazioni di rimbalzine, ma secondo me verrà compensata poi dalla piastra e dal layer interno, quindi ho grandi aspettative. Questa l'avevamo vista ai piedi di Ainul mi pare. Già a Lutte l'avevamo vista ai piedi. Giusto perché ho notato che c'era, forse mi avevi addirittura fatto una foto con zoomata. La classica zoomata super laverau in cui c'era un tacco bianco e un'altra scarpa, attenzione, dietro, però non avevamo pensato alla piastra onestamente. Sì, no, è vero. Era un'informazione che è arrivata dopo. Sì, ce l'avevano accennato a Chamonix. Ecco, la sua è rimasta invariata, hanno rivisto leggermente il tassello, ma il concetto è sempre lo stesso. Passiamo a un altro prodotto che è stato, beh, secondo me che ha avuto una bella evoluzione da parte di, da parte di altra, forse la novità più grossa è questa, l'utilizzo di, ma si vedeva in realtà. Quella è la Timp5, comunque è il nome del prodotto, quindi quando altra non fa il mezzo punto sulla versione, ma cambia il numero intero, vuol dire che hanno fatto un rework della base della scarpa. Il rework qui è stato nell'alzarla, va a 29 mm di stack, zero drop, chiaramente. Su Alan Vibram è la protagonista del restyle della scarpa e monta una mega grip classico, quindi senza traction lag, che come ho visto su altre scarpe, secondo me non è proprio, non è indispensabile, ecco. è forse della categoria che ci è sembrata un po' meno porosa, meno sticky rispetto ad altri, però non vuol dire niente perché dopo bisogna testarla sul campo, ecco. Mi è piaciuto che hanno lasciato comunque le tacche di flessione tra il Vibram come per Mont Blanc Carbon e quindi la scarpa può flettersi non solamente in digiflessione, ma anche lateralmente, ti consente un buon controllo della scarpa. avere 29 mm è molto molto comodo secondo me ed è un Ego Max, quindi la loro mescola più votata all'ammortizzamento. Non faccio grandi cenito mai, è rimasta molto simile a quella della 4, bella resistente, antistrappo, ha una protezione davanti sul puntale, molto... la calzata mi è piaciuta tanto, è un po' più raccolta di altre altre. Anche se sembra, a me sembra che cada un pochettino verso l'interno. Un pochino, sì, un po'. Anche se in realtà è un discorso di com'è strutturata. C'è veramente poco sidewall all'interno, quindi la parte di schiuma che tiene la scarpa, che tiene il piede in sede, probabilmente questa è una scarpa al contrario di Olympus, in cui serve un utilizzatore che abbia già utilizzato secondo me delle zero drop, perché allora lì ti diverti tanto. Se la prendi come prima zero drop è comoda, è ammortizzata, però è molto stretta al mesopiede e di conseguenza devi avere un buon controllo del piede e dei tendini, ecco quello sì. Però apprezzato come restyle e tal non so quanti avessero chiesto per quattro emissioni. Era assolutamente il suo punto debole, perché comunque Timper era una scarpa apprezzatissima da tantissima gente, ma quello su cui veniva effettivamente a mancare era sempre il discorso di grip. Questo fa tutta la differenza del mondo. Secondo me è una delle scarpe che vedremo di più nella pancia del gruppo. Anche secondo me. Questa qui la vedremo tanto. Anche perché comunque messa al piede è veramente comoda e si adatta bene al piede. Forse è anche un po' old school per quanto riguarda materiali, per quanto mi riguarda. Questo non vuol dire che questo non sto facendo un non-complimento, non è un difetto, però semplicemente è resistente, è solida in mano e questo secondo me non è male. Tenendo conto che comunque adesso ci sono tantissimi brand che fanno esperimenti particolari sulla specialmente intomaia. Quindi sentire qualcosa che ha corpo, che è solido. Sì, che non ha troppe frigolezze. Sì, o comunque quelle cose che vedi e dici questo secondo me potrebbe essere un punto di strappo. Questo già lo vedo sulla prima radice. Secondo me è veramente molto solida. Molto solida. Anche l'A4 era veramente molto resistente. L'A4 aveva secondo me un problema, era un'idea geniale, ma un problema allo stesso tempo che aveva la retina che conteneva la eva morbida. Qui è stata resa probabilmente, è stata aiutata sempre con una copertura esterna e rimanere più resistente, ma poi presentava dei fori per il drenaggio dell'acqua connessi a delle forature leggere all'interno del tuo box davanti. Funzionava, sì, ma era anche uno dei punti di maggiore stress della scartola purtroppo. Grande idea, ma allo stesso tempo... Forse quello è l'unico punto di domanda, potrebbe stare quanto è calda questa scartola. Quanto è calda questa tomaia. Questa cosa la scopriremo presumo a LUT. Anche perché se passi la mano dentro senti proprio l'interno. Sì, sì, assolutamente. È proprio chiuso, mettiamola così. Però potrebbe essere veramente molto traspirante. Questo si vedrà secondo me più avanti. Sì, bella, 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 bella update. Non esploriamo altro di altra perché Outroad è rimasta alla 2 e Olympus è rimasta alla 5 per questa stagione. Quindi passiamo al prossimo brand e l'ho già un po' sporcato, quindi facendo pazienza. Questo ci hai già messo, i fit fits on. Sì, sì, l'ho già portata un po' a spasso ed è la ASICS Trabucco, arrivata alla versione 12. Devo essere onesto, la prima volta che l'ho preso in mano ho pensato mi sembra la versione cheap della 11 perché hanno fatto un sacco di rifiniture termoplastiche arricchite soprattutto sul puntalino e sul retro qui. Sono solo delle patine in realtà, non è che hanno aggiunto plasticone, però queste coperture probabilmente a scopo protettivo rendono la scarpa un po' più monoblocco. La 11, come la ricordo dalle corse che ci facevo, si adattava un po' di più alla forma del piede. Questa mi pare un po' più appuntita, ma sono veramente dettagli di qualche millimetro. la schiuma rimane la stessa, le Flight Foam Blast ed è una scarpa, per queste scarpe qui è una mescola di media densità. Secondo me è una scarpa per tutti, questa qui è assolutamente democratica e è proprio un aggiornamento. mi rimaneva un po' in dubbio, provando l'altro giorno mi sembrava un po' calda, ma era una giornata anche molto umida, quindi magari in realtà… È molto imbottita, anche da questo punto di vista parlando di design old school, questa è cosa che potresti vedere, che vedevi anche magari su scarpe di qualche anno fa. A livello di design secondo me è molto bella come scarpa. La cosa forse incomprensibile è questo… È un po' grande, sì. …enorme passante dietro il taglione. Io sono pro, i passanti che si dovrebbero mettere la scarpa, ma questo è un po' grandino. Avendolo visto più piccolino, anche solo sulla Carbon che abbiamo appena avuto in mano. Mi è piaciuto che non abbiano snaturato, scusate, la qualità della scarpa. Bene, tanto c'è anche gente che sta ascoltando questa cosa. Non abbiano snaturato la qualità del Drip, che è stato apprezzatissimo da due anni a questa parte, già con la 10 che era interessante, ma nella 11 ha proprio svoltato e è un grip veramente, veramente valido. Sì. Quindi approvata e secondo me questa rimarrà uno dei prodotti più venduti di quest'anno, a meno che dei test hanno una merca che magari è diventata un po' più secca, che è sempre il rischio quando la stessa zeppa viene utilizzata per più anni di fila, anche per risparmiare qualcosa a qualche brand noti che magari cade un po' la qualità dell'ammortizzamento. Secondo me questa era una di quelle scarpe, non mi ricordo se ne abbiamo parlato in una qualche puntata o era in una discussione extra, che è una di quelle scarpe che se la provi ti piace e te ne innamori, ma è difficile magari arrivare a quel punto. Arrivare a provarla per forza, sì sì. Perché se per ASICS dal punto di vista Road è assolutamente un brand sdoganato, amato e molto presente, il fatto che siano arrivati, non dico tardi, però comunque un po' in punta di piedi, nel mondo trail secondo me hanno ancora poca gente che magari è riuscita ad averla ai piedi, però questa è una di quelle scarpe che forse non necessita nemmeno di questo grande lavoro di transizione a livello di abitudine. Ha un 8D drop, è molto rotonda sotto le dita, crea questa sensazione di rullata accompagnata proprio dovuta al rocker, che è piuttosto aggressivo, per essere una scarpa da meatpacker, ecco. E poi ha una versione Max che non abbiamo qui oggi, adesso ha una versione Elite diciamo con la Metafuji Sky, se sarà il nome definitivo. Ne abbiamo parlato su Delongran. Ne abbiamo parlato su Delongran, però questo è un buon prodotto di inizio proprio, chi vuole entrare in ASICS e provare un prodotto comunque qualitativo, questo ha un punto di prezzo molto competitivo, 350-160 euro e quindi è una secondo me, adesso è assolutamente competitiva sul resto del mercato delle scarpe standard diciamo. Prima di passare a quello dopo, posso dire che odio le scarpe che questo passa. Il porta lacetti, ma sai che anni fa lo faceva Scott? E anche Brooks. E Scott però lo posizionava in fondo, adoravo. In fondo aveva proprio senso, così a metà... Non sono mai riuscito ad apprezzarlo, non so perché è un problema mio personale. Pugliamo il tavolo di gioco. Postazione. Questo rumore, sentite, sono io che spazzo. Passiamo a Kraft. Passiamo a Kraft, sì. Allora, abbiamo due prodotti, anzi tre prodotti. Parto da quelli più... vado dal più nuovo al quello più classico. E il primo prodotto... Abbiamo anche un prodotto speciale, di cui abbiamo già parlato. Il primo prodotto è la Explore, che è la loro scarpa, diciamo, mi ha fatto sempre ridere, mi ha fatto sempre ridere Lainey quando parla dei loro prodotti, perché Lainey chiama tutti i loro prodotti Gravel Shoe. Chiaro. Ed è veramente così. Tutti i prodotti Kraft sono ottimi, secondo me, sul mix di strada e strada bianca. anche per il sentiero, per carità. Però danno il meglio di loro, secondo me, quando il terreno non è tecnico. Questa Explore vuole essere il neo di congiunizione tra la scarpa road, a tutti gli effetti, e la scarpa da trail. È una scarpa che ha proprio un'automaia da stradale. Sì, sì, assolutamente. Pochissimi rinforzi, molto natural, come hai preso al piede. E ha, invece, una suola da ATR, all terrain, ed è la prima collaborazione, che ci è nota almeno, di Victoria Deumatici, che normalmente le vediamo tantissimo su auto e soprattutto bici e moto, con un brand di scarpe. Quindi è un vero e proprio esperimento. Uno strato unico, monoblocco di suola, con alcuni intagli per togliere un po' di peso. Non penso servano per la flessibilità della scarpa, perché è abbastanza rigida. E la schiuma, invece, è il loro prodotto con arricchimento in poliuretano, con un'infusione, a base di poliuretano. Molto larga, rispetto a domani. Sì, sì, sì. Per chi magari sta guardando il video. Ha una delle basi d'appoggio più ampie, secondo me, anche come tipologia di scarpa. Tanto strano la schiuma che hanno usato. È tanto elastica sotto le dita, cosa che è forse magari un fio differente rispetto a tante altre schiume, dove di solito il dito affonda più facilmente. Ha tanto ritorno. Buonino il grip al tatto, mettiamola così. Sì, sì. È un grip da misto, secondo me. Poi, sono due millimetri solo di tassello, perché il dichiarato della schiuma come stacco sotto il piede totale è 38-32, ma solo di zeppa sono 36-30, quindi sono due millimetri di suola a tutti gli effetti. Non è granché, è una scuola mista. L'interessante è che questo composto che utilizzano loro è il più elastico della loro linea. Un po' mi è dispiaciuto vederlo utilizzato su una scarpa che per loro è una scarpa abbastanza tranquilla, capito? E forse perché comunque è un composto molto morbido, ma anche un po' meno reattivo degli altri, ecco. Quindi magari non è una mescola, un punto di morbidezza da scarpa per forma. Sì, sì, sì. Mi dà queste vibes. Dopo sarebbe tutto da provare, perché tante volte tutte queste nuove schiume supercritiche pensate da, che ne so, da pancia del gruppo, in realtà poi una persona che corre veloce, sfruttando anche la geometria del prodotto, riesce ad usarle veramente in maniera performante. La schiuma è solo una parte della scarpa. Assolutamente. Poi contano i piedi, come sempre. Ultimo dettaglio, rinforzo sulla parte dietro del tallone che va un po' a… Sì, che deve compensare… Sì, per dare un po' più di stabilità a questa… Infatti il tallone è anche molto rigido, la conchiglia è tanto tanto esposta da quello che sento. Sì, sì. C'è poco… Sì, sì, ma non ha un grande padding dentro. Sì, esatto. È molto essenziale dal nostro punto di vista. Non abbiamo un peso dichiarato ancora, se non qualche indiscrezione, però io presumo che questo 43 sia intorno ai 300 grammi. Prossima volta che registriamo dal vivo anche bilancino qui in mezzo e facciamo i test anche col… Sai che devi dire bilancia. Sì. Adesso prendiamo la bilancia. Vediamo se cade tutto il setup. Bilancino, test in diretta di peso. 43, scarpa destra. Vai. Ovviamente sono andato a coprire il peso. 304. Eh dai, non è male, è abbastanza in media con… Sì, sì, sì. Me la sarei aspettata più leggera, non tanto a tatto perché comunque la sento che non è… Sì, sì, sì. Non è una zinal, mettiamola così. No. Visivamente è più leggera, ma si vede che secondo me la… secondo me parte del peso arriva proprio dal composto. Io penso dal composto. Anche dalla… Sì, perché tutto quello… Loro lo danno… Sembra effettivamente bella densa. Loro la chiamano PX Foam, non è un PEBA assolutamente perché sarebbe più leggera, è una base poliuretano extra, anche con un arricchimento, un infusione. interessante nel suo… perché rispetto a magari altre schiume di craft è un po' più… è un effetto rebound, così a sensazione maggiore. Mi chiedo… Cioè secondo me è una schiuma che quasi va meglio su strada. Come risposta su trail magari secondo me dissipa un po' troppo e si perde. Però di nuovo, da dove arriva? Dagli Stati Uniti? È sviluppato da persone che corrono praticamente su strada, ma è sterrato. Quindi… È una scarpa che ha molto senso magari a livello… in termini geografici specifici. Sì, sì. Ci vedrai una persona correre loot con questa? Magari no. No. Però il Travericus sì. Sì, assolutamente. Beh, magari non con queste condizioni. Posso dire che mi piace tantissimo avere tutta una serie di specifiche scritte in grande. Assolutamente. Anche in grande, però scritte in maniera ordinata sul bordo della scarpa che non può vederci. Sono scritte dove la suola incontra l'intera suola e ci sono tutta una serie di specifiche tecniche. I brand, il marchio della suola… Sì, il nome del prodotto e lo stack con il drop. Visto anche su un prodotto che vedremo dopo, mi pare che la Sabra abbia il drop segnato. Sì, il drop sempre scritto. Che è una cosa che apprezzo. Scrivi i dati tecnici della scarpa. Nike ci metteva i dati geografici della… Ah sì, vero. E Oka invece per un periodo aveva dei radiali di gradi di quanto era il rocker della scarpa, la geometria della scarpa. Io queste cose ci vado via di testa. Sì, sì. Ma tanti non capivano che cazzo stesse scrivendo di lato. Poi mi dicevano un tech rap, ma no, sono proprio i radiali del rocker della geometria. Ti dà un'idea di quanto è accentuata la geometria della scarpa. Più forse mettevano non il peso ma un altro dato, forse era il drop, non ricordo. Ma anche perché poi sinceramente ci sono… Poi passiamo ad altro… Ci sono persone che comunque sono sinceramente interessate a questi dati. Quindi sapere subito nel momento in cui prendi in mano la scarpa… Beh, se fosse anche il peso sarebbe ok, ma mi rendo conto che al cambio delle taglie cambia il peso, quindi è forse poco rilevante come dato. Però sì, avere sott'occhio tutte quelle che sono le tecnologie e i dati tecnici della scarpa, secondo me è un dettaglio interessante. E adesso andiamo ad una stanza di scarpe più chiacchierate del nostro B-Side from Chamonix. Assolutamente. Perché? Dobbiamo tornare sui nostri passi. Pure trail. Sono tornate. Sono tornate. Allora, questa scarpa Ida Nilsson ha fatto seconda ai mondiali Thailandia, giusto? Sì, non terza, seconda. 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 Mondiali lunga distanza. Esatto. Ed erano molto chiacchierate e nessuno capiva che cazzo di Kraft fossero perché erano totalmente diverse dai suoloni a cui ci avevano abituato. È una scarpa che in realtà non così bassa perché fa 30 mm, 26 mm, 4 mm di drop ed era stata molto chiacchierata su Buckle perché l'anno scorso a Chamonix c'erano un sacco di test run e il group run del brand su questo prodotto perché il lancio è stato ad agosto dell'anno scorso. Erano queste che regalavano addirittura. La storm è andato fuori un po' di scarpa. Parallelamente ad adidas. Salva all'occhio perché ci sta guardando una tomaia veramente veramente inesistente. e a tutti gli effetti veramente un underwear con la sua taloniera con lo sbuffo che facilita l'entrata. Taloniera non troppo rigida presente ma non troppo ferma. Materiale quasi plastico. Assolutamente. E materiale che devi ragionare su che calzino mettere perché viene visto attraverso. Problematico. È molto trasparente. Mi mettete un calzino verde qua è un problema. Chi ci sta guardando le dita si vedono molto bene. È però una scarpa che per loro deve essere una scarpa performance da media distanza poi in realtà sdoganata anche sulle ultra e per loro scarpa performance significa grande fit assolutamente piede che comunica bene col terreno non troppo filtrato e una schiuma di media densità quindi reattiva non troppo morbida. Quando l'avevi provata tu a Chamonix. Infatti full disclosure l'ho provata solo io a Chamonix nel numero che avevano e quel numero che avevano mi pare fosse mezzo numero più grande di quella che è la mia taglia. Ecco questo secondo me può essere un buon un buon distinguo nel senso è una scarpa che necessita che sia calzata su misura sul vostro piede. Assolutamente perfetta. Perché appena l'ho messa al piede a Chamonix il piede mi andava ovunque. Cedeva all'interno cedeva all'esterno anche perché la tomaia non ha nessun tipo di rinforzo. Il dichiarato è è un unico pezzo di tomaia incollato su tutta la scarpa quindi non ha rinforzi particolari non ha niente non ha neanche quei sidewall che aiutano un po' la linguetta a stare in sede praticamente o il form fit di che fa qualche brand. Io l'ho messa adesso assolutamente su un 43 che è la mia taglia ed è un guanto. Ci ho corso poco solo per testarla in un ambiente ancora protetto e assolutamente pulita. mi è piaciuta tantissimo perché prima calzata almeno l'ho sentita proprio precisa dove mettevo il piede gli stava e assolutamente come si dice fa quello che viene dichiarato. Poi è una scarpa non molto morbida ma è una scarpa da lunghe per qualcuno a occhio. È una scarpa tutto sommato che non promette di fare chissà che avventura. Anche la suola è una suola assolutamente standard. E ha un layer, un film di protezione dai sassi sull'avampiede. Un layer in plastica. Sì, ha probabilmente uno shank in termoplastico a metà nel mesopiede per dare stabilità. Poi prosegue sull'avampiede per dare un po' più di filtro del terreno. Allora, non so se cambierò 100% l'idea però già al primo sit-in nella scarpa devo dire che un po' mi ha fatto dire ok forse ho provato una staglia e sciammonica. Questa magari sarà la prima scarpa su Buckle ad avere un pre, un first look e un post test. E capire come funziona. Questa è la complessità di questa scarpa. Sì, l'unico dubbio che ho è appunto sulla tenuta nel momento in cui vai in appoggio e il piede. Che era forse anche uno dei possibili problemi che avevo riscontrato con la prima versione di Montblanc che avendo una tomaia così tanto morbida ovviamente non ti permetteva di avere stabilità per quanto riguarda il piede all'interno della scarpa. Sì, poi se la guardi attentamente da davanti vedi che la geometria è un po' punta verso l'interno, ha un lavoro che consente proprio un rocker energico diciamo. Probabilmente tutto accentuato anche da questo layer protettivo che dà un po' di rigidità in più. Chissà se questa è una di quelle scarpe che ricade in categoria se corri benissimo, benissimo. Nessun problema, ma nei momenti in cui cominci a correre male è un problema. No, mi è rimasto che per esempio Laney in realtà non ha usato questa scarpa per il suo team B, ha usato sempre il prodotto che si chiama Nord Light Speed il primo anno e nel secondo anno Nord Light Ultra. Le abbiamo anche quelle, non ve le mostriamo oggi perché non è un prodotto nuovo, è un prodotto un po' ritritato. E quindi però insomma quella scarpa là è molto più alta, cioè a 40 mm al retro. Questa qui invece monta la stessa schiuma identica in Critical Foam ma sono 10 mm in più solo dietro, quindi un centimetro pieno. Questa è più polivalente per tanti tipi di trade diversi da capire sul terreno tecnico come si muove. O comunque tecnico ma non tecnicissimo ma comunque più tecnico di altri. E come ultimo prodotto in realtà qui andiamo via veloci perché è una scarpa già vista l'anno scorso. Abbiamo la Endurance. Qui torniamo a un prodotto con... Spero si senta il rumore nel microfono che fa questa scarpa. A essere. No, qui torniamo a un prodotto che è uscito l'anno scorso che sta su un restyle. Monta la stessa schiuma che monta Explore Hybrid che abbiamo visto poco fa dalla scarpa ibrida. Road to Trail. Però questo è il loro prodotto proprio da sentiero. Si vede una sola un po' più scolpita, mantenuta libera qui che è una lama a doppio taglio. Qui se prendi un sasso o qualcosa sul mesopiede sto indicando per chi non ci può vedere. Si va via un po' più scivolosi. Però in generale è una scarpa che consente un po' più di autonomia anche sui chilometri. Stacco molto alto. Broker importante. La cosa che a me l'anno scorso non era piaciuta di questa scarpa era il drop che sui 9 mm e si fa sentire. Cioè ti fa percepire che la scarpa vuole essere lavorata dietro. Sì perché comunque già di base la scarpa è molto alta. Quindi sì. Pensati che loro comunque la inseriscono sulla linea Hybrid mi pare. No linea 3 questa qui. Linea 3. Ed è una scarpa che insomma un po' nonostante la stazza è solo di 300 grammi e ha un utilizzo magari un po' più vario. Lato mai inizia ad avere già un po' più di rinforzi. Ricorda un po' a livello di design secondo me il Matrix anche se in realtà sembra una contraffazione del Matrix. Craft ci arriva con gli avvocati a casa. No però è sempre una scarpa un po' più costruita ecco. Si vede che dietro c'è un lavoro pensato anche da ultra distanza da scarpa che deve. Io ho corso diversi chilometri l'anno scorso in questa qua mi era anche piaciucchiata ecco. Molto bella in termini di design comunque. A me mi sarebbe stata una delle mie scarpe preferite se avessero tolto 4 minuti di drop. Se questa è stata un po' più rotonda invece dietro atterravo proprio di piatto e mi ispirava meno. L'unica cosa che forse non mi convince a un primo sguardo è l'attacco della suola. Per chi lo può vedere è molto in punta. Non so se questo diventa un punto di criticità perché è tanto stretta e quindi rischia un po' di aprirsi quando poi tante scarpe vanno a chiudere la suola stando un pochettino ampio. Questo è l'unica cosa che vedo. Appena l'ho visto ho pensato chissà se quella punta davanti si stacca con un po' di lavoro. Ma non abbiamo avuto problemi. Anche su condizioni magari non facili abbiamo testato tanto anche all'Oano nei giorni di test insomma terreno mediamente tecnico. No no in generale è buona, ha un po' ecco la suola è alta se è un po' sul trampolino quindi va adattata ecco. Cioè l'utilizzo va adattato ai terreni secondo me quando si parla di questa scarpa qua. C'è una scarpa da tuscani crossing, una scarpa da collinoni infiniti. Però si torna a quello che si diceva prima. Sono scarpe ideate per una tipologia diversa magari dalle gare, dal grosso delle gare che troviamo in Italia specialmente su in montagna. Però questa scarpa secondo me è molto bella a livello di design. E con Craft abbiamo finito. Ora passiamo a un sacco di scarpe e parto con loro. Vai, facciamo una premessa. Parliamo di Dynafit o Dynafit. Adesso ci sentirete probabilmente pronunciare per proprio condizio. Tu Dynafit, io Dynafit. Tutte le scarpe di cui non conosciamo la pronuncia faremo così. Dynafit arriva con una linea completamente rifatta. Mantiene, che non ne parliamo oggi, la linea ultra nel modello 50 e il modello 100. Quelli rimangono, ma poi ha rifatto il loro concetto di scarpa da distanza più lunga e terreno un po' meno tecnico. E tira fuori anche magari le altre così non tiriamo un attimo tutte insieme. Perché Dynafit ha deciso di uscire con due categorie per colore. Perfetto. Così le abbiamo tutte. Abbiamo la categoria Alpine e la categoria Ultra. E sono scarpe, chiaramente come chiama un po' il nome, pensate per un ambiente un po' più tecnico, le prime, le Alpine. E per un ambiente magari un po' più lunga distanza, terreno veramente variabile, che è composta dalla linea ultra. Per ognuna delle due linee Dynafit ha creato due prodotti. Un prodotto DNA, che è quello che vedete. Che è il prodotto, mi dispiace usare termini propri di altri brand, però il prodotto è slab, cioè il prodotto un po' più curato, con i materiali più all'avanguardia. E poi quindi è considerabile il prodotto racer, io lo chiamo. Più per il giorno gara o comunque per chi vuole una scarpa più performante. E dopo hanno creato un prodotto chiamato impropriamente Trainer, di entrambe le categorie, che non si chiama DNA ma si chiama Pro. Quindi c'è il prodotto Alpine DNA, il prodotto Ultra DNA. C'è il prodotto Alpine Pro, poi lo prendiamo, e il prodotto DNA Pro. Riempiamo il tavolo di scala. Esatto. Facciamo slittare. Vedete anche la versione diciamo da allenamento, come la chiamo io. Che non vuol dire che debba essere usata solo da allenamento. I prodotti sono leggermente più economici perché hanno dei materiali diversi. Non solo in intressuola, ma anche nella tomaia cambia un po' il lavoro. Cambia un po' il lavoro. Però a tutti gli effetti magari i terreni di elezione sono gli stessi, terreni tecnici per la linea Alpine, terreni misti per la linea Ultra. E dopo uno deve decidere magari, adesso vediamo un po' il dettaglio in entrambe le linee, uno può decidere qual è la cosa che lo aiuta di più nel scegliere la scarpa se andare sulla linea proprio da gara o la linea di allenamento gli basta ecco. Ecco sì. Magari i più fortunati avranno entrambe le scarpe così si possono frullare un sacco di chilometri in una e tenere quella da gara, che penso sia il concetto che Dynafit vuole applicare qui. Dynafit è giusto per dirlo. Bravo. Parcondicio. Nel modo differente. In realtà è uno di quei brand che secondo me rientra, magari non necessariamente in categoria ASICS, perché comunque ASICS di nuovo ha un'ampia fetta di mercato per quanto riguarda il mercato stradale, magari gente che dalla strada si approccia al trail prova prima a prendere delle ASICS. Ecco, Dynafit secondo me è uno di quei prodotti che è molto interessante ma ancora largamente poco utilizzato e poco… Mi è capitato di rado. Dipende dove vai. Chiaro. Chiaro. Assolutamente. Io quell'anno sono andato a Mozart. No, no, ovvio. Quello è un mercato completamente differente. Io parlo del nostro mercato. L'hanno comunque da qualche anno prodotti molto interessanti perché Ultra 100 era molto bella come scarpa, Ultra 50 anche, quindi insomma… Sì. Allora, da cosa vuoi cominciare? Così tolgo un po' di scarpe. E parliamo dalle scarpe tecniche. Ok. La linea Sky. Ok. Allora mettiamo davanti e indietro queste qua. Così togliamo un po' di roba. Mettiamo la doppia. Aspetta, recupero. Ah, possiamo far vedere una cosa così poi la tolgo. Per ogni scarpa, la facciamo vedere ma lo diciamo anche, per ogni scarpa Quick Lace, differente tra la versione base e la versione avanzata, la versione race e la versione da allenamento, mettiamola così. e tutte le scarpe hanno il doppio… Tutte le scarpe trainer. Hanno il doppio… Solo quelle della linea Pro. Le racer vengono fornite con un Quick Lace tutto diverso. Anche perché hanno la tasca che va a tutta altezza. No, a tutta altezza e soprattutto hanno un soffietto. Praticamente hanno due soffietti per accorciare e stringere e uno unico per detendere i lacci e quindi… Perché ci sta ascoltando, sono come se fossero due asole della… Due… Due asole. Le due orecchie del coniglio quando si fa la… Mamma mia. Le scarpe che puoi stringere, tirare e stringere la scarpa e invece un laccio centrale… …che ti permette di aprirla. E la taschina del laccio corre per tutta la patella della… Della… Della linguetta. Provo a riassumere un po' le caratteristiche di questa linea Alpine. Ecco. Che quindi caratteristiche uniformi tra il modello Trainer e il modello Racer sono avere un profilo tutto sommato basso. Ok? Non è una scarpa dello stacco alto. Provo anche a recuperarvelo perché è un po' una novità e magari non ho tutto sott'occhio. Però è uno stacco sicuramente inferiore a tanti. Ah, giusto che non te lo stagna sempre. Però più o meno intorno a 30 mm comprensivo anche di suola. E questo è il motivo per cui la gente ce lo deve stampare sulla scarpa. Deve scrivere, sì, esatto. Per facilitare il nostro lavoro. No, infatti l'Alpine DNA fa più o meno… Esatto, 30 mm comprensivi di soletta e comprensivi di suola. Eh, quindi ok. Quindi non è così alta. E fa davanti invece 26 mm. Quindi 4 mm. Il modello Pro, da allenamento, identico. Quindi stessa cosa. Il modello… Ecco, qui entrano le tecnologie nuove in casa Dynafit. Il modello DNA ha una zeppa in Speed Plus che è un nuovo materiale, presumono a nitroinfusione. Loro ne parlano come una supercritical foam, come tutti chiaramente. ed è ad alto rimbalzo ed è molto flessibile. Sull'avampiede lo vedi proprio scattante, ha un grandissimo ritorno di energia. Ha tutto sommato una pianta ampia davanti. Magari il volume poi sopra viene un po' schiacciato, ma in entrambi i prodotti la pianta è ampia e diventa più stretta sotto il mesopiede. Rispetto alla linea Ultra ha una cosa propria solo della linea da terreno tecnico, diciamo la linea Alpine, che è un inserto in termoplastico che parte sotto il post mediale, viene detto. Questa sezione è sotto il malleolo, ok? Da entrambe le parti. Che crea probabilmente, serve a dare stabilità, e prosegue poi sul mesopiede. Chi ci sta guardando lo vede bene. Ci sono due inserti a vista per mostrare che esiste questo inserto termoplastico, che proseguono poi sotto il mesopiede. Non si irradia a guardare sotto l'avampiede. Sì, probabilmente il disegno della scuola richiama anche quello che è la forma della... Lo stacco. Sì, esatto. Non è una scarpa molto ammortizzata, fa meno di 300 grammi ed è una scarpa pensata da spingere. Sì. E non fa eccezione neanche la trainer, che comunque pesa un filino di più, è fatta con materiali un po' più rigidi, lo senti anche in torsione, ha un po' più di... Sembra quasi che la piastra vada un po' più lunga. Qua la piastra, tra virgolette, è l'inserto. Però ecco, a tutti gli effetti il modello Racer ha un po' di... Ha una tomaia molto più leggera, molto più duttile, ha un collarino, vedete, a taglio vivo, quindi è proprio pensato per vestire come un calzino. Invece la trainer ha una linguetta, questo soffietto con... La struttura classica. La struttura classica, ecco. Entrambe hanno una... Hanno un loop qui di... Per aiutare il presumo della calzata, ma è veramente rigido. Sembra una fascia in cuoio. Sì. Probabilmente a livello... Non riesco a capire se nemmeno è una questione di design, o se è una questione di stabilità nella parte del tallone, anche perché all'interno della tomaia poi non riesco a sentirlo, effettivamente. Quindi non capisco nemmeno se è continuo o se è semplicemente cucito, come si vede qua. Chi lo sa, è un'aggiunta interessante. Sì. Particolare. Ecco, comunque, prodotto terreno tecnico, si vede anche un po' della suola. Assolutamente. La scatata non c'è granché, però lascia anche diversi spazi vuoti per aderire magari in più punti. È una suola in Vibram Light Base senza traction lag. Sì. Ed è trasportata da entrambe le scarpe. Esatto. Quindi ecco, curiosità, questa è l'evoluzione della linea Sky DNA che abbiamo visto due anni fa, anzi l'anno scorso, che era uno dei pochi prodotti sul mercato ad avere già un'intersuola in PEBA, bassissima perché era un prodotto da vertical, molto molto intuitivo, molto scattante. Questa è una bella evoluzione perché lo stacco viene alzato un pochino e diventa anche una scarpa magari più polivalente, non necessariamente da distanza cortissima, ma comunque magari entro la distanza maraton e mi viene a dire, oh, magari un atleta molto veloce ci potrebbe anche fare una maraton così a guardare lo stacco. Sì, non è molto diverso da una kata. Sì, 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 assolutamente utilizzabile. Ecco, da capire questo sistema antitorsione in plastica qui quanto viene percepito in corsa perché quello scommetti dal metro di quanto la porti sul corribile. Perché se è troppo rigido magari sul corribile la porti poco e la preferisci tenere su sentieri up and down. Quindi dove lo senti meno. Però magari stabilizza così tanto. Cioè immagino sia funzionale a quello. Sì, sì, sì. E penso che per l'Alpine possiamo finire. Sì. Ti lascio. Vado alla linea Ultra. Anche qui abbiamo allora la rappresentazione della Ultra Pro Trainer e la Ultra invece DNA Racer, come le abbiamo un po' chiamate impropriamente noi perché dopo possono essere utilizzate per qualsiasi cosa. I concetti ritornano anche qui. Quindi, cambio alla tomaia. La linea DNA è un calzino con l'arricchimento di queste strutture superleggere e un po' di rinforzi. Invece la linea Ultra è assolutamente standard. con un buon livello di protezione e allacciatura guidata. Sì. E ritorno al concetto dell'intersuola. della Ultra DNA monta la loro nuova schiuma Speed Plus, mentre la schiuma della Pro si chiama Speed Light. Ti do la seconda scarpa. Ecco. E la Speed Light è una mescola un po' più pesante, più votata all'ammortizzamento, meno alla risposta. Invece la Speed Plus si percepisce il tatto che suona un po' più da vuota. ASRM e probabilmente rilancia un po' più di energia. Ho un po' di dubbi sulla suola di queste scarpe che spero di fugare in fretta che hanno un'enorme parte vuota sotto il mesopiede dove non c'è nessun tipo di tassello. Anche perché poi tra l'altro avendo un tassello molto basso la differenza è minima. Sì sembra proprio una suola, cioè è proprio il concetto di scarpa da Ultra che fa anche Salomon con il tassello appena bozzato. Il logo vibra anche. Si diventa un tassello. No ecco. E poi chi ci sta vedendo potrebbe notare che la scarpa è molto tipo piatta monoblocco. Cioè ha una geometria, è presente, è un po' più rockerizzata sembrerebbe la Speed, quella scarpa DNA. Che avrebbe senso. Che avrebbe senso. Però tutto sommato sono delle scarpe un po' piattine con poca geometria. Quindi da capire poi in corsa effettivamente se la scarpa rulla bene, se è una scarpa pensata per essere corsa più verso l'avampiede o magari più verso il tallone. Ci sono tante tipologie di scarpe. Questa è la scarpa che usa Numberger, quindi presumo l'abbia sviluppata. L'Ultra DNA è la scarpa da Numberger. Lui. Sì sì sì. Quindi dietro alla base c'è sicuramente un concetto di una scarpa veloce. Però guardiamo un attimo il peso. Lasciando stare il dichiarato, penso che come la scarpa racing questa qua, la Ultra DNA, non sia proprio leggerissima. 307 grammi. Eh. Cioè capito? Pesa come la Timp. Sì sì sì. Almeno come scarpe di medio peso. Quindi. Interessante la linguetta sulla versione base. Che è forata. Un po' forata. Anche perché è molto grossa, è molto imbottita. Invece la versione DNA è quasi proprio un calzino, un tessuto elasticizzato. Sembra quasi veramente il Flyknit. No, però quello che usava come collarino le scarpe Flyknit. Sì sì sì. Di Nike. Allora io e te siamo concordi che sia veramente una linea interessante e un bel cambio di marcia da parte di Dinafit. Sì sì. Sappiamo ormai dai lavori che abbiamo fatto anche con altri sviluppatori di prodotto che una zeppa bene o male deve durare almeno due o tre anni a un brand per essere ripagate tutte. Quindi sto veramente sperando che sia un bel prodotto divertente perché pensare di avere un prodotto un po' magari non così esaltante quando lo usi vuol dire che per altri due anni probabilmente non vedi un'innovazione radicale ma vedi piccoli aggiustamenti. Sì. Qui non puoi lavorare diversamente da Tomaya cioè non puoi renderla più scarna di così. Anche se comunque un po' di contraforti hanno provato a infilarli. Sì sì. A dargli qualche tipo di struttura ci hanno provato dove? Così a prima vista ho qualche dubbio solo sulla rullata della scarpa che mi sembra un po' piantata. Sì sì. Però magari io ripeto. Però magari sulla lunga distanza è quella scarpa che funziona bene o magari che ti perdona tanto nella seconda metà di gara dove magari tendi un po' a stare un filo indietro. A Zegama. A stare un po' in spinta. L'anno scorso che mi sapeva anche quella di sciolettone monoblocco poi in realtà sotto le dita ci lavoravi bene. Sì. E dietro potevi appoggiarti quanto volessi. Chiaro. Questa è una scarpa che fa 8 mm di drop. Tutta la linea. Classico. Da ultra. E quindi da insomma da capire. Da capire. Curioso ecco. Sì. Le do fiducia ma vediamo. Questo sicuramente comunque sarà un filo più caldo anche se comunque in realtà la tomaia la sento sembra sembra traspirante. Sento comunque anche forature nel design. C'è più paradossalmente quasi più sensazione plastica sulla DNA. Però è un materiale molto simile a quello che c'era su Ultrafly o comunque come Concept che sembrava quel tipo di materiale che questa roba non traspira ma in realtà sì o comunque è anche un materiale che non si bagna. Sì. Che non resta bagnato. Esatto. Quindi insomma è. Ecco una buona porosità del vibro ecco non abbiamo detto prima sulle linee alpine però sì è un po' più si sente. Però è proprio strana è proprio densità molto particolare. E se ci batti sotto almeno su questa non ti sembra non ti ricorda un po' Ultrafly che aveva questo vuoto. Sì è vero è vero quello della qui sotto ci deve essere l'alloggiamento della piastra. Sì esatto. Molto meno dietro effettivamente mi spiace magari non si senta ma lo sentiamo noi e questo è abbastanza. Vedremo vedremo questa potrebbe essere la pro secondo me potrebbe essere una scarpa da pancia del gruppo da buona vendita. È una bella scarpa. Secondo me è una bella scarpa. DNA è da capire. Se non l'avete mai provata secondo me fategli fare un giro. Cambiamo region. Cambiamo continente. Cambiamo continente. Tolgo una cosa. E andiamo alla Kailas. Allora abbiamo due prodotti. Partiamo da. Questa non l'avevamo vista a Chamonix. Questa. Ho ricordo male. C'era. Però non ce l'ha data in mano. No perché si era concentrato su prodotti diversi che erano più di traino per il brand in sé. Però ci aveva anche specificato che il brand in Italia avrebbe fatto una campagna marketing un po' diversa puntando su prodotti che potessero adattarsi meglio al nostro tipo di mercato. Scelta assolutamente logica. Assolutamente. Questo prodotto forse meno esotico di Kailas è la Fuga X3. L'anno scorso stava uscendo in questo periodo quindi i test di Schialper l'abbiamo avuta marginalmente. Adesso invece sono arrivate tutti gli effetti in versione di serie. Io mi ero trovato da Dio con quella dell'anno scorso e mi ero divertito veramente tanto perché è una schiuma media densità, comoda ma non troppo morbida, reattiva ma non da dire che devi correreci per forza veloce. Veramente mi era piaciuta. Aveva un neo per il mio piede di fitting ma era un po' troppo stretta. Si vede che è stretta. Non l'ho usata tantissimo. È una scarpa che mi ha ricordato tanto la calzata delle Salomo. Noi le prendiamo sempre in giro Kailas però ricorda un po' quello. Linguetta che non si muove troppo ti permette di avere un piede proprio bello fermo ed è molto arrotondata come geometria. Quindi è una scarpa che ti consente di correre abbastanza seduto se vuoi. Sostenuto dietro ma davanti ha un po' di lavoro. Se apri la pagina di Kailas di internet rimane il caos come sito. È pieno di brevetti, brevettini, pieno di cose. Le cose da ricordare sono che utilizzano delle schiume comunque tutto sommato sono quasi tutte in eva. Ad alto rebound magari ma comunque rimangono delle eve. Suola si affidano a Vibram per praticamente la totalità dei loro prodotti. Tutti i loro prodotti montano Vibram. Suola non fa praticamente impazzire il disegno. Proprio polivalente. Però buona. Però secondo me è una scarpa che fa il suo. Sì sì. E dopo hanno questo quick lace che non si chiama quick lace perché non è di proprietà di Salomon. Però è un laccio rapido con il pocket. Sì. Però hanno anche questi ganci in metallo. Hanno un passante in metallo a chiudere e un gancio dove puoi andare a fissare l'ultimo l'ultimo laccio che tra l'altro si può togliere senza problemi. Io di questa cosa non sono grande fan. Di tutte le volte che i brand usano parti in metallo sulla scarpa. Lo faceva anche On con i suoi passantini per avere il richiamo sul logo. Bellissimo dal punto di vista del design. Non lo so. Trovo che sempre siano un filo delle criticità. Quindi quella è l'unica cosa che magari mi convince meno. Doppio passalaccio. Doppio passalaccio. Anche sulla parte finale dei lacci. Scarpa abbastanza di medio range per loro. Molto stretto. Molto stretto. Molto stretto della base. Però l'anno scorso quando ci correvo che era molto simile non era identico. La teloniera è stata rivista completamente dalla 2. E notavo che era molto stabile. Cioè appena atterravi ti riportava bello dritto. Non avevi mai la sensazione di ballare. Ma perché secondo me è molto stretto in mezzo. Come si chiama questa parte? Famice. Famice sì. Ok. Molto stretto qua. Ma in realtà si allagga immediatamente sulla parte davanti e dietro. Si riesce a vederci bene. Esatto. Ma secondo me guarda. Si vede tanto che sia qua che qua. Sulla destra e sulla sinistra è tanto esasperato. E lo sarà ancora di più sulla scarpa che andremo a vedere dopo. Sì. Questa per loro vuole essere per loro un po' la loro speed got. Cioè la loro scarpa più popolare. Ci sta. La scarpa di medio mercato. E secondo me ci sta. Ripeto. È molto onesta. Non si vede tanto in giro. Potrebbe sicuramente essere apprezzata di più sul mercato. Parlando di brand che hanno poca scelta e poca visibilità. Sì. Kailas sta ancora facendo tanta fatica. Sì. Però quest'anno chi che hanno preso? No Bonardi. Chi che hanno preso? Minoggio. Può essere. Hanno appena preso Minoggio. Spero di aver detto una cosa che non dovevo dire. O forse hanno contattato qualche atleta che nello scorso era in nazionale. So che erano per trattative. Forse Minox era stato uno di quelli presi. Però potrei sbagliarmi eh. Insomma mi arriva un fulmine da… Bippiamo tutto. Esatto. No grande. Poi ci metti un bip. È stato preso un bip. Fantastico. No invece Ale spoilerava un po' la prossima scarpa parlando di prodotto ad altissimo ampiezza dell'avampiede ed è Fuga DIU. Questa l'avevamo proprio vista a Chamonix. Esatto. Scarpa che l'anno scorso in Italia… Difficile a dimenticare questa scarpa. L'anno scorso in Italia non era stata distribuita. Era stato un prodotto difficile da far entrare. È stranissima. Una delle scarpe più strane che ci siano perché ha diverse dinforze in plastica. Questa non è molto diversa da quello che fa Genesis di Salomon. Cioè uno stabilizzatore in termoplastico. La cosa che salta all'occhio, guardatela da davanti, è che emerge proprio questa… Secondo me da sotto, se fai vedere il sotto… È larguissima. Perché lì è proprio… Sembrano due pezzi extra attaccati in avampiede. Sì. Ad allargare l'appoggio in avampiede. È la scarpa che vuole essere più stabile sul mercato 3. Assolutamente. Il clima è quello. Anche perché ci cammini anche sulla nera con queste. Sì. Sono delle ciaspole. Molto… Se torna il fit a guantino, si vede che questo è un prodotto recente rispetto magari all'extra che era un po' già in ballo. Perché i materiali sono un po' più lisci. C'è un po' più di… Si sente… Si vede una cura… La qualità è altissima da questo punto di vista. Sì, sì, sì. Molto, molto interessante la qualità proprio della resa, degli tomaio. Soprattutto la calzata è molto comoda. Molto comoda. Io arrivo da una frattura al quinto metatarsu. Vi assicuro che un po' di larghezza non mi sta dispiacendo in questo periodo. E questa è veramente una scarpa che la metti e ci vuoi stare dentro senza problemi. Torna un po' l'ipotesi del monoblocco. C'è una scarpa che va assolutamente piatta, però vedi tutto questo sbalzo, questo flare, come lo chiamano sul retro, aiuta quando si è stanchi ad atterrare comodi davanti. È impossibile scavigliare. Io potrei riuscirci, però credo sia impossibile scavigliare con questa scarpa. Più che altro se scavigli secondo me è problematico quello che succede dopo al tuo piede. È curioso veramente invece il flare che esce sull'avampiede. Forse non lo vedete tanto, però è proprio esposto fuori dalla linea del puntale. Per spiegare un po' come... Forse la prima volta che avevo visto questo tipo di utilizzo dell'intersuola era sulle scarpe di... Forse era proprio su Oka che era andata un pochettino a sbalzo sul tallone. che era forse stata una delle novità. Ecco, immaginatevi per chi sta ascoltando uno sbalzo sull'avampiede. Dopo le dita proprio. C'è praticamente 5 mm di schiuma che fuoriesce in avanti sulla scarpa per accentuare ancora di più la rullata e quindi portarla a portare all'esagerazione davanti. Praticamente puoi camminare in punta qua. Rimangono gli 8 mm di drop, la schiuma è sempre una EVA light morbida. bella scritta in giappo, probabilmente... No, in cinese, scusate. Probabilmente chissà cosa c'è scritto. Fuck you. Dai forza. Dai forza. Dai, dai, dai. Però ecco, prodotto interessante. Bravo lo stesso. Sì. L'anno scorso c'era la versione prima. La prima versione mi era anche arrivata ma non l'avevamo presa in considerazione perché poi non sarebbe uscita sul mercato nostro. Quest'anno che arriva la provo volentieri. Sì. Interessante. Sempre via Magrip. Vabbè, non ci prendiamo parole, non mi disegno tutto l'oro e via. Loro lo chiamano anche il loro chevron e non so perché perché non è lo chevron in cui ci hanno abituati. Però ecco, è tutto patented comunque. Ci vanno fieri. Loro sono fini di brevetti sulle scarpe. E per Kylas direi che andiamo... Sì. Forse l'ultima cosa. Questa è la versione di Kylas della stessa roba di Dinafit. No, credo che sia un rinforzo. Sì, sì. Per chi non lo vede è un cordino a vista sulla parte posteriore del tallone. Presumo per rinforzare la zona. Ma domani a fine vita puoi trasformarle in ciabatte tagliando questo e lo puoi aprire. Si apre. Ok. Basti che scopriremo. Cambiamo brand. Cambiamo brand. Possiamo farlo vedere questo brand. Perché è questo brand. Fatemi vedere se... Cambia brand. Vai avanti. Guarda se ho avuto risposte. Andiamo a scarpa. Ok, il nostro aiuto da casa ci ha suggerito che non è il caso di parlare della scarpa di cui avremmo voluto parlarvi. Rimane... Non è un embargo, ma bisogna aspettare ancora un pochino e rimarrete in attesa. Ma vi assicuro che siamo molto carichi per quella scarpa. Ne vale la pena. Ne vale la pena. Passiamo a scarpa. Passiamo a scarpa. Di questa l'abbiamo già parlato, tra l'altro. Questa l'abbiamo toccata con The Running Event. Sì. Un po' in coda. Perché siamo andati in ordine alfabetico. Chiaro. Ma come questa volta. Magari qualcuno non se ne era accorto. E ci mancava un po' di... No, non eravamo stati proprio precisi. Perché ho pensato che quella volta North Face doveva andare in fondo. Invece l'ho chiamata North Face invece che The North Face. Comunque ok, scarpa. E l'abbiamo appena appena accennata. Ma effettivamente The Running Event non è stata forse curata così tanto come immagine. E un po' sporca perché abbiamo iniziato già a mettere sotto test. Questa è la Golden Gate ATR2. Un prodotto che fa parte della loro linea Golden Gate pensata per il multiterreno in questo caso. Il design della suola non cambia tanto. È stata un po' rilavorata negli stack. Però se uno guarda l'outsole invece è identica al precedente Golden Gate. Cosa è cambiato? È un po' meno bulky. Un po' meno mattone. È grossa. È più fluida. Anche in corsa è sicuramente un po' più slanciata. E al tatto come ti è sembrato? Cambia un po' di cose. L'anno scorso c'era una tomaia molto classica. Mi sembra più che altro molto moderna. Dalla tomaia all'utilizzo di questo tipo di linguetta. Loro comunque con questa hanno cambiato un pochettino l'approccio. Mi pare di capire. Lo scrivono anche dietro. Loro ha Ed Orto Trail questa scarpa. Sì sì. Assolutamente. Secondo me è una scarpa molto interessante. È molto corribile. Ha un 4D drop. È un peso che nelle staglie standard va appena appena sotto i 300 grammi. Quindi vuole essere una scarpa tutto sommato che passa un po' inosservata sotto il piede. Slanciata. Monta ancora una eva classica. Leggera. Non ha mescole supercritiche. Anzi probabilmente Francesco Orrico mi diceva che già questa è un'interazione in Supercritical ma non quelle iniezioni di PEBA superleggera. Comunque rimane una scarpa supercritica, morbida, non troppo reattiva. Cioè è una scarpa assolutamente per tutti. Quindi non è un prodotto solo gara come magari poteva essere, poi vedremo il prossimo. Però questo qui è molto interessante perché inizia ad essere un'evoluzione di Golden Gate che era richiesta dal mercato perché Golden Gate era un risultato un po' troppo rigida e forse aveva avuto anche in inizio qualche problema di frizione vero sul retro. Qui hanno rifatto il collarino completamente. C'è un accompagnamento importante sul retro della scarpa. Molto alto. Molto alto ma più alto di quello che fate. Forse è vero. Però meno esposto sulla parte posteriore. E' molto più pulito e ti consente di sedere forse un po' meglio qui il tallone. Linguetta fine, liscia. Incazzata. Vista su tanti brand. Questa ormai sembra essere una di quelle tecnologie, una di quei modelli di linguetta moderni che vengono usate. Ovviamente cucita dentro quindi non è libera di muoversi ovunque. Sì. Poi la prima calzata mi sembra che l'unione di Tomaja e Schiuma creino un effetto molto stabile. Loro lo chiamano bounce foam. Quindi in realtà per loro è una scarpa che punta sull'ammortizzamento e la stabilità non necessariamente sull'essere una scarpa veloce. Poi in realtà abbiamo già visto i piedi anche di atleti come Merillas l'anno scorso e abbiamo visto i piedi anche del Dega, Marco De Gasperi con dei bei ritmi chiaramente però lì c'è l'atleta che fa il suo. Però è una scarpa secondo me molto polivalente in casa scarpa. Mi chiedo che una scarpa che adesso è arrivata a essere questo che spazio lascerà Spin Planet che quest'anno rimane intanto inizio anno quella a cui ci è abituato l'anno scorso. Però si avvicina molto quel concetto lì adesso anche se Spin Planet è un po' più alta e ha un'eva classica per la intersuola. Forse effettivamente è la versione da faccio una distanza un pochettino più lunga e questa magari resta su una cosa un pochettino più corta. Sì forse questa non ha quella belleità di distanza. Per quanto poi Spina abbia all'interno della sua lina la scarpa effettivamente per ultra è quello che è però è un tipo di scarpa che vedo in maniera su un tier differente su un livello differente. Mi piace la forma ecco di scarpa qua è comoda molto spaziosa non è una cioè insomma mi pare proprio un prodotto polivalente e vediamo vediamo come si è molto classica come forma però molto però apprezzato una scarpa scarpa. Ho apprezzato che non è proprio quell'ottanio e basta. Sì assolutamente. C'è anche c'è anche un po' di fluo c'è un po' di lavoro anche estetico. A livello di design Spin Planet secondo me era una scarpa molto bella e anche questa secondo me. Su Internet ci portiamo via la scrittona gigante. Assolutamente cosa che noi apprezziamo sempre brand dovete fare più di queste cose. Esatto. E via vediamo. Vediamo la scarpa. Sarà come sarà. Racing. Vediamo la scarpa racing. Arriva adesso. Tempo di recuperarla. Eccola qua. E abbiamo Spin Race. Come suggerisce il nome è una scarpa da gara. C'è scritto anche dietro. Rebound. Rebound Racer. C'è scritto dietro. Esatto. E interessante. Dimmi i tuoi primi pensieri. Mi ricorda tantissimo. Dillo. Spin. La prima Spin. La prima Spin. È proprio per me un ritorno al passato con questo tipo di forma in suola e la grandezza del Famicel. Com'è strutturata la scarpa. È una versione moderna di quella scarpa o almeno perlomeno a me ricorda quello. Quanto ha di drop questo? 3-4 mm. Ok. Quindi siamo lì perché quella scarpa ne faceva 3. Sì. Ha una incredibile stack di 18-14 mm. Bassissima. Quindi è una delle più basse sicuramente dei testi quest'anno. Ma si vede eh. Sì sì. La percepisce. Sì sì assolutamente. Non è una scarpa in nessun modo alta. E va a un peso comunque bello leggero perché va a 215 grammi il 42 mm. Che è veramente basso. Questo è un 42 mm. Sì. No questo è un 42 mm. Sì sì. Magari si parla di 2,55 mm, 2,60 mm. Quindi non tantissime. Quindi non tantissime. Comunque ecco questa è una Spring Foam la chiamano loro. Quindi è una scarpa in intro infusione. Non in intro infusione. Con iniezione. È di Peba. È una scarpa leggera. Assolutamente leggera. Punta tutto sull'elasticità. Lo nasconde bene ma ha un post mediale qui in termoplastico che dà un po' di solidità in più. Si percepisce anche sotto. Quindi una specie di asse antitorsione che cade proprio a metà della scarpa gradito secondo me. Assolutamente. Era forse una delle cose che mancava alla vecchia Spin. Io ho fatto fuori un paio di paia della primissima Spin. Penso a Davide Grazielli che ci ha corso Western States anche quest'anno. Assolutamente. Io penso che Davide Grazielli del 2017 avrebbe stato secondo me quell'anno là. Sì. Possibile. Possibile. Avrebbe corso molto più volentieri. Molto. Sì. Assolutamente. Con questa scarpa qui a Western States per un discorso di smescola che si percepisce è un po' più morbidina. Sì. Risponde di più ed è veramente una bella scarpa. Questa mi emoziona un sacco. Quell'altra, parliamo di una scarpa di sette, otto anni fa. Sì. Sette anni fa. E quella scarpa era plastica. Era la tua maia in plastica. Sì. C'era poco da fare. Una gara comunque calda, una cosa di questo tipo aiuta sicuramente di più. Scarpa molto stretta. Non adatta a chi è abituato ad avere spazio all'interno della scarpa. O supporto laterale. Qui non c'è. È ridotta all'osso. È veramente molto molto stretta. Va via dritta, non si allarga, non si stringe. Come la vecchia Spin non ha sidewall importanti. Ne ha un po' di più. Se passi dentro il dito senti che stai appoggiando dentro questo archetto qui che riesci a vederci. Sì. Che riesci a dare un po' di sostegno in più. C'è un minimo ma molto poco. Per questo deve essere una scarpa assolutamente pensata per essere reattiva, veloce. In piedi dopo poco tempo di contatto non è una scarpa che corre lentamente. Ok. Ora affronto il mio Doomsday che è la chiusura NBS. NBS. Scusa. New Block System. New Blocking System. L'avevo vista già su Spin. Mamma mia come si chiamava? Brutto l'app su questa parte mia. L'avevo già vista su quella scarpa che mi avevo andato da testare l'anno scorso ai test invernali. che era una spin, era un modello spin per terreni bagnati. Adesso vabbè mi dispiace che non mi viene in mente. Lo mettiamo in nota. Lo mettiamo in nota. Ed era la prima applicazione di NBS su scarpe e scarpa. E l'avevano applicata proprio su un concetto racing. Qui ritorna, è una scarpa che chi ci vede ci consente di tirare i lacci all'interno di queste strutture plastiche che vanno un po' ad aggiustarsi e poi di essere chiuse con un click, di bloccare il laccio in posizione sicura. Manca purtroppo un nastrino che sarebbe stato magari meglio. C'è la linguetta sotto, il porta lacci è sotto la linguetta. Vedi? Esattamente come la vecchia Spin. Però secondo me è un po' pochino. Cioè lo vedi... Si si è molto molto risicato. Molto risicato. È tutto ridotto all'osso. Deve essere una scarpa proprio pensata per il giorno gara o per allenamenti molto veloci. Infatti anche l'automaia è un Matrix. Prima applicazione in scarpa di Matrix, secondo me, vero? Possibile. Non l'abbiamo vista sui belle, per cui... Molto interessante questa... Matrix normale. Sarei curioso di capire quanto può durare una scarpa del genere in termini di chilometraggio. Sì. Nel caso se riusciremo ad avere questa informazione... Sì. Sì, sì, sì. Però ecco l'interessante perché questa è una scarpa che mette insieme tradizione, perché è un prodotto di sette anni fa. Sì. Sì. che è quello, ma vedi come può cambiare in sette anni lo stesso prodotto e arrivare a pressoché la stessa resa con materiali molto diversi. è un tassello meno aggressivo di sette anni fa che aveva di quei tasselloni, forse un millimetro in meno che si potessi, però si sentiva sempre quando correvi su asfalto quella... Quella scarpa mancava la schiuma. Sì, sì. E si sentiva tutto. Però ci ha fatto sentire tutti dei gran corridori quell'anno là. Assolutamente. Era una scarpa che ti chiedeva di correre bene. Sì. Perché sennò era problematica come cosa. Sì. E Filippo Caon ci ha corso ancora recentemente con quella scarpa là. Secondo me questa gli piacerebbe. Lui che corre anche un po' impostato, quella meccanica un po' pulita. Filippo, se sei ad ascolto, se riuscivi a correre bene con quella scarpa lì, secondo me con questa ti diverti. E vediamo. A chi passiamo? A chi passiamo a New Balance, quindi. No. Sì. Ah, abbiamo saltato. Sì. Sì, bravo. Allora, ho sbagliato io. Ho rovinato la puntata. Eravamo in ordine alfabetico. Allora, a New Balance abbiamo una linea un po' rivista a tutto e tondo. Partirei dal prodotto magari che abbiamo già visto anche l'anno scorso. Esatto. Quindi c'è solo un restyle, che è il prodotto More. Chi sta guardando, specifichiamo che non c'è grossa distorsione dal punto di vista della lente, la scarpa è effettivamente così alta. È altissima. È altissima. Dici che dovrei togliere la mia, che ho ai piedi, e fare un contro con la due. Ma se vuoi, intanto io mi cerco i dati. Anche queste cose fatte live mentre registriamo. Quello che sto spiegando, perché si scolta, sto slacciando il mio paio di New Balance More, che ormai ho da due o tre anni. No, due anni. E ci facciamo una bella... vediamo com'è. Eccolo qua. Eccolo qua. Quindi abbiamo la More V2 versus More V3. Per chi guarda forse la primissima differenza è proprio là. Ma adesso ti tiro fuori anche i dati della More V2. Che secondo me, se riuscissimo a parlare anche di quello, sarebbe divertentissima. Forse non la trovo. No, incredibile. Era la repeat senza una scarpa. Comunque non importa dai. Guardiamo questa Run V3. Allora, 4 mm di drop. Più o meno 300 grammi. Poi vorrei vedere veramente l'effettivo. E uno stack che fa quasi 40 grammi. Più o meno. Un po' meno. Quasi 40 mm dietro. Più o meno 39 e mezzo danno. E 35 e mezzo davanti. Quindi scarpe, probabilmente una delle scarpe da trail più alte. Se non la più alta del mercato. E prodotto che è stato abbellito un po'. Si vede un po' di qualità. Si, si, si. Per quanto non la trovavo brutta la 2. No. Era massimale. Era massimale. Su alla rivista, tacchettone grande. Quella lì aveva un tacchetto un po' più basso, la 2, rispetto alla 3. Le 3, addirittura. Penso sia l'applicazione più voluminosa di Traction Lag. È enorme. È enorme. Lo vedete benissimo. Ma ha proprio un Traction Lag che si vede pronunciato all'interno di un tacchetto importante. Suola chiaramente ampissima. In Fresh Foam. Che è una schiuma assolutamente morbida. Questo qui è la variante di Fresh Foam chiamata Fresh Foam X. Che è quello più bouncy, più morbido. E emerge, la grande differenza secondo me, che emerge proprio all'occhio, è il sidewall importantissimo. È quello che facevo notare prima. È proprio l'assenza di questo blocco. Il piede si siede proprio dentro a questa struttura rialzata, sia dentro che fuori, e crea un effetto di rotaia. Chiaro. Che poi alla fine è quello che abbiamo visto anche in tante altre scarpe. Cioè magari non fanno sidewall alti ma sono costretti a mettere dei rinforzi su questa parte della scarpa per tenerti un pochettino più bloccato il piede. È molto molto interessante questo concetto perché ti consente di avere proprio grandissima stabilità sul prodotto e anche un'impostazione un po' della falcata. Chiaro che chi vuole sentirsi un po' più libero a livello di caviglie, di lavorare a tutto piede, magari potrebbe sembrare un po' eccessivo così a occhio. Ma va provata, ecco. E scarpa da terreni assolutamente facili, americani, per tre regolette, per fare uno sgherro agli americani. Ed è anche da una grande protezione in termini di Tomaya. è una grande stradale massimalista portata su trail e quello deve fare e probabilmente farà bene su quei terreni lì. Se voglio provare a portarla in Dolomiti e farci una gara magari difficile come pendenze medie, forse non è il suo, così a guardarla... Poi magari dipende anche dai ritmi. Magari sul tecnico, tecnicissimo, eccetera, sì è problematico. Se sto facendo una lunga passeggiata a ritmi blandi, perché no? Se un giorno passate e mi vedete correre con questa scarpa, sappiate che probabilmente ho bisogno di andare a ritmi blandi e correre sul facile. Però è una scarpa che secondo me ti permette di essere confortevole a lunghissimo. Sì, sì, sì. E con questo attacchetto qua comunque affondi bene, se sei sul terreno facile sì, ma puoi comunque andare su terreni anche un po' più fangosi, hai una bella aderenza generale. Intersuola talmente alta che pur avendo il tassello così alto secondo me non arrivi mai veramente a sentire il tassello o qualcosa che hai sotto il terreno. Sì, sì. Ha un bel mega grip anche abbastanza sticky e interessante. È una scarpa abbastanza unica nel suo genere. Sì, sì. Rispetto a tanti brand manca questo... è Stinson di Oka di cui abbiamo parlato. Giusto, quello è un minimalismo. Anche perché Stinson tra l'altro è una scarpa molto pesante, credo un 360 grammi. Sì, io ho corso... Ne abbiamo parlato su una di Long Run come scarpa sorpresa, sì. Anche su Gli Award l'avevo premiata. Sì. Questa rispetto a Stinson è più morbida e Stinson è molto più macchinosa, cioè in rullata è più rigida, molto più secca. ti fa arrivare lì e un po' atterri su una struttura importante. Qui è molto più morbido e l'atterraggio al primo impatto appena l'ho indossata è un atterraggio soft, proprio soft landing. Secondo me la Stinson rulla più facilmente proprio perché è più rigida. Questa qui ha un bel rocker però atterri su una schiuma molto morbida, magari va a dissipare di più. È ben pesata questa. O hai detto quanto pesava? No, mi dava un peso intorno al 300 in realtà però... proviamo. Abbiamo un debilancino che è importante. 311. Neanche male. Non è male. Abbiamo appena pesato delle scarpe da 307 che in realtà hanno una forma completamente diversa. Non ricordo qual'era. Non c'è una scarpa secondaria da poter collegare oggi, la scarpa più alta del proprio di oggi. No, così è. La scarpa più alta era quella che ho io ai piedi quindi che è un'altra morra. Andiamo a vedere qualcosa di... Sì, facciamo un passettino in avanti e andiamo alla nuovissima Pierro V8. Ci ho già fatto un giretto e in realtà ne parleremo presto in New Balance, un evento di presentazione ufficiale, quindi magari possiamo tenerci qualche argomento anche per più avanti. Però giusto per dare una presentazione, iero è cambiata abbastanza. Molto. È cambiata la suola, ha un design completamente rivisto, è cambiato la gestione del Fresh Foam che ora ha una compressione un po' diversa rispetto a prima. A me iero V7 era piaciuta tantissimo, veramente tanto. E la cosa che mi aveva fatto apprezzare era che è stata che sotto le dita c'era grandissima sensibilità del terreno. Quindi si aveva una scarpa estremamente morbida e strutturata bene dal meso piede indietro, sotto le dita era invece incredibilmente sensibile per la stazza che avevo. questo. Questa qui si riporta un po' al solettone di due edizioni fa, non che sia una cosa tendenzialmente sbagliata, però è molto più morbida. Sì. È assolutamente più morbida. È piacevole. Ho camminato forse solo una mattinata interna, un paio, due o tre ore di camminata costante ed è stata molto soffice. Anche tutto sommato precisa, in atterraggio. La cosa che mi ha stupito è stata la suola quando ho tirato fuori dalla scatola. Questo si sente bene. Vibra Magrip. Allora, se con la More Trail... Questo secondo me è impossibile da spiegare. Abbiamo visto che il Traction Lag era proprio presente sul tacchettone. qui hanno optato per Vibra Magrip Traction Lag, ma penso sia la più piccola applicazione di Traction Lag esistente. Chi è in video può vederci bene, perché sono veramente dei tassellini piccolissimi e la cosa che non si spiega è che la base, se sentite, è veramente sticky, il tassellino è morbidissimo. È morbidissimo. È come se fosse veramente schiuma. Schiuma, sì. È come se fosse parte dell'intersuola. Infatti questo mi incuriosisce tanto a livello di durabilità. Eh sì. Perché chissà se questa è la prima cosa che si consuma o magari no. La guardi anche in sezione e vedi che è proprio basso, quasi più basso di quelli laterali che servono a dare stabilità in entrata del passo. E posso dire che è la prima volta che vedo una cosa di questo tipo. Se tante suole si somigliano o capisci da dove arriva il ragionamento che li hanno portati a, questa è la prima volta che vedo un prodotto del genere. Sarei curioso di capire, ma magari lo scopriamo settimana prossima, l'ispirazione di questo concetto qui. Perché ogni brand ha la sua ispirazione per i tasselli sotto. Se è una cosa che è arrivata dal comparto fashion, in cui New Balance è forte anche con grazie a Ierro, o se a livello meccanico c'è un lavoro dietro di uno studio particolare. perché vederla così ti direi che è una scarpa per terreno facile, non la porterei su niente di eccessivo, magari ci smentiscono e sarei contento di essere smentito questa volta. Perché è un peccato, secondo me, limitare Ierro a terreni poco tecnici. Perché è una scarpa che si vende bene, la vedi ai piedi di chiunque, come una Speedgot di Oka. E la suola è veramente valida, anche perché a differenza delle Eve classiche e superleggera è questa. Pesa di più, perché è una scarpa più strutturata. Ed è però più durevole. Quindi è una scarpa che ti puoi portare dietro veramente per tanti chilometri. Quindi io tifo Ierro in questo senso e spero non deluda da quel punto di vista lì. Però, però, devo dire che la prima calzata non mi è piaciuta per niente la linguetta. te la faccio sentire, è estremamente mobile. Non ha nessun tipo di cucitura che te la tieni in sede e questa cosa non mi è piaciuta. Ed è spessa, come sai. Ed è anche tanto lunga la linguetta. Quindi ha veramente tanto modo di spostarsi e di ruotare su se stessa. Ha tutte le capacità di farlo, sì. Che strana scelta. Boh. Anche perché comunque ormai usano veramente quel materiale leggerissimo di elastico che va a tenerti la linguetta a posto. Ti lascio parlare di design. No, dicevo design. L'unica cosa che volevo dire è che secondo me la scarpa segue tanto quelle che sono le evoluzioni fatte da New Balance nell'ultimo anno. Anche solo quella che abbiamo visto, la Fuel Cell. Sì, sì, sì. Come si chiama? Fuel Cell Super Comp. Super Comp. Era quella alta, sì, molto alta da strada. Però ecco, riporta poi appunto tutti i simbolini di New Balance. Non ricordo cosa vogliono dire i simboli, presumo sia l'acqua, la montagna e il sole. Puoi correre anche sul sole. Il pico, sì, probabilmente sì. Però l'A7 in termini puri di design, per quanto mi riguarda, è la più bella? C'è? Ah, no, no. C'è una leggenda? Pensavo, ma non perché avevo letto Rebel. Ah, sì. In The Magnificent Outdoors. Sì, no, veramente. L'A7 secondo me era più bella, però come dicevo in chat quando abbiamo visto le prime foto è, onestamente, cosa ne so io di design? Quindi sarà il mercato a decidere da questo punto di vista. Molto particolare, molto tie dye come colorazione. Il processo per cui metti degli inchiostri di colorazione o della candeggina se usi delle maglie già colorate, le strizzi e poi le riapri per farle asciugare. Ho spiegato malissimo il processo di dye. Però è tipo quello che si faceva nelle magliette per i rave party. Sì, assolutamente è quello, assolutamente è quello. Quelle psichedeliche, quegli effetti psichedelici. Assolutamente. Ecco, quella cosa lì del design, allora, si notava molto poco questa tipologia di lavoro sulla Tomaya su quella versione gialla ocra che avevamo visto. Ah sì, quella gialla. È vero, è vero. Che abbiamo detto, caspita, sono tornati all'ocra che aveva stravenduto. Poi quando ci è arrivata questa abbiamo detto tipo quando l'ordini, quando ti arriva. Va detto, a catalogo hanno tanti colori. Sì. Alcuni molto belli. Sì, sì, sì. Ecco, mi piace che abbiano scritto semplicemente hierro, si è perso il V8, V7. Ci sta da un certo punto di vista. Guarda, vediamo perché allora ti dico, per me è un mixed feeling per me su questa cosa. Mi è piaciuto tanto il sotto, la base della scarpa e sopra questa linguetta mi fa un po' perdere la magia. Forse anche questo non è, questa scritta è enorme. Però, lo vedremo. Vedremo. Lo vedremo. Passiamo al sugo. Passiamo al sugo alla cosa nuova. Perché c'è una scarpa che in altri campi di applicazione probabilmente l'avrebbero chiamata la killer application di Interbrand. Ed è un nuovissimo prodotto, si chiama Venim e tra l'altro se mai facessimo una… Sai che sugli award a fine anno parliamo del miglior nome. Sì. Ecco. La gente non sa che nelle scatole delle scarpe New Balance mette solo le sigle. Quindi un magazziniere fa sempre molta fatica a capire che cosa gli ha mandato. La sigla qua, eh. E' MT che sta per Mountain Trail. Perché dopo lavorando in negozio avevo capito che c'erano delle codifiche. E' VNY quindi Venim. Venim. MG del colore… E chi sa cosa vuol dire MG. Però lo scopriamo. Comunque Venim è un nuovissimo prodotto. Leggero. Non è pesato che sono curioso. Ed è la loro scarpa racing adesso. Monta un FU SL. Quindi se nei due prodotti precedenti avevamo visto una schiuma molto morbida che si chiamava appunto Fresh Foam X. Qui si va il FU SL che è il loro prodotto per scarpa reattiva. E viene montato soprattutto sulle scarpe stradali. Nel 43 va a 268 grammi. Quindi un peso intermedio. E' provata. Solo in primo fit è la classica corsa in garage per sentire le sensazioni. La danno molto bassa da catalogo. Mi pare intorno a meno di 20 mm della lampiede. Ma la sensazione è che ci sia di più di quello che viene dichiarato. Quindi molto positiva questa cosa. Ha una struttura che richiama un po' anche tutto il poligonale. Richiama un po' la linea che ci ha fatto impazzire da strada. Un po' boh da capire all'atto pratico all'utilizzo. Perché l'ho trovata un po' instabile. Un po' morbida. Quindi uno corre molto bene. Probabilmente riesce a sfruttare il rebound della scarpa senza cadere in instabilità. Altrimenti lascia un po' andare la calzata. Dici che questa potrebbe essere la loro door to trail. Quindi terreni non eccessivamente complessi. Loro in catalogo la elencavano immediatamente dopo la super comp con la piastra. Io penso che questo sia il loro nuovo design go to per la scarpa racing. Ok? Quando usano il FUSL, quella poligonale. E credo che questa sia a tutti gli effetti la schiuma della loro scarpa della strada. Che si chiama Revel V4. Forse è un po' più bassa. Perché la Revel ha uno stack un po' più alto. Ma penso che sia quella applicazione di quella stradale sul trail. E quindi per loro è una scarpa veloce. Io credo che avrà il suo range di utilizzo migliore su gare fino alla distanza maraton. E a guardare un po' l'unione di design, schiuma e suola, maraton corribili. Non brilla questa suola. Nel senso, peccato che non ci sia stato Vibram anche qui. Perché magari avrebbe fatto la differenza. Però qui la linguetta ha il... Qui c'è tutto un altro lavoro. È come se nel baraccone New Balance, mi passino in termini, ci fosse proprio due uffici. Uno che ha fatto l'amore e questa qui è l'ufficio che ha fatto l'Aierro che lavora su un suo binario. La cosa pazzesca di questa scarpa è che se me l'avessero data qualche anno fa così, senza farmi vedere la suola, io l'avrei scambiata per una scarpa stradale. Sì. Assolutamente. Sì, sì, sì. Questa è veramente una stradale che monta una suola che può funzionare su sentiero. Mi intrippa tantissimo come scarpa, passatemi il termine. Bella schiuma comunque. Mi piace molto la schiuma. Bella schiuma. Ma mi impensierisce la stabilità per lo stesso motivo. Però sì, nel momento in cui magari la usi effettivamente su un classico sentiero corribile, comunque che non ha tantissime asperità, tante difficoltà, non è eccessivamente tecnico, cose di questo tipo, magari è una scarpa che può funzionare molto bene. Esatto, guarda, proprio da capire e... La userei in Lagorai, no? No, secondo me diventa una scarpa per l'utilizzatore, mi piace o non mi piace. Penso che ci sia poco grigio in mezzo, quindi scopriremo anche da questo nuovo team come si muoveranno col prodotto. Sì, sì, loro adesso stanno correndo, mi pare, con gli Arrow 7. Gli Arrow 7 e sono appena arrivate le 8, mi pare di aver capito. E questa magari è appena arrivata anche loro. Sì, sì. Sono curioso. Sì, assolutamente. Vedrai. Sempre bello vedere linee di prodotto nuove. Sì. E alla fine, se ci pensi, comunque era una linea di prodotto interna a New Balance che a loro mancava, quindi... Perché no? Eh, perché il loro segmento Super Comp, che sta per Super Competition, con il prodotto in piastra, noi l'avevamo già detto anche di recente, non ha avuto la fortuna che speravano, probabilmente. e io credo che il prossimo prodotto piastra, il prossimo prodotto racing, proprio improntato da gara, Elite di New Balance, avrà forse un plate, ma avrà quel design di Venim. Secondo me quel prodotto ha avuto la sfortuna di uscire in un momento di transizione. Ah, sì. E per cui non c'era una squadra a supportarlo, magari a livello, in termini di marketing, comunque tiravano un po' indietro. Abbiamo visto molto presentazioni, sì, ma era sulle pubblicità dei bus, quindi è un po' diverso. C'è stato l'evento, quello che è, però sì. Poi, come sempre, hanno speso un sacco di soldi per rifare le linee road. Hanno capito cosa delle road poteva essere portata sul trail, probabilmente, e tutto reverse ingegneri. Sì, sì, chiaro, ma ormai è da qualche anno. Hanno bisogno di lavorare prima lì dove c'è il budget e dopo, nella maniera più economica possibile, trasportare le tecnologie sul trail, lo fanno tutti. New Balance, probabilmente, forse, era un marchio che aveva investito un po' meno gli anni prima o comunque su Supercomp aveva investito relativamente e adesso hanno materiale su cui lavorare. Sì, sì. Passiamo a Speedlane. Passiamo a Speedlane, sì. Sì, sì, sì. Questa l'abbiamo... Siamo quasi alla chiusura. Teaserata... Arrivata alla S, quindi. Questa l'abbiamo teaserata a Natale? Sì, 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 sì. Vero? Assolutamente. Un po' usata, come è giusto che sia. Modello Speedlane GS TAM da Tamal Pais. Sì, il nome è Tamal Pais. Tamal Pais. Ed è il secondo, diciamo, il vero secondo prodotto, perché nel primo prodotto ci sono state due versioni di Speedlane. scarpa interessante, concettualmente va a perdere alcune cose che erano state, diciamo, le prime caratteristiche del primo prodotto, cioè va a perdere la tomaia in Deinima, anzi in Bio Deinima, viene appena persa, in favore di un materiale più elasticizzato. Anche perché il primo prodotto PDX era una scarpa made in Oregon. Sì. Questa è ispirata alla California, quindi ci sta, secondo me, come cambio il prodotto. Nessuno pensa alla California come stagione dei monsoni e del terreno tecnico, ma... Questa scarpa sviluppata, presumiamo, assieme a Bowman. Se la prima Speedlane, la PDX, era una scarpa molto strana da vedere ai piedi Bowman, questa è più una scarpa tipica sua, mettiamola così. Stack importantissimo, ecco, per inciso ne parliamo, anche se è una scarpa che non ha mercato da noi, chiaramente, però è una scarpa esotica. A due o tre feature veramente interessanti. Allora, rispetto alla PDX, che è stato il primo prodotto loro, ha una schiuma, vedete, ampissima, molto, molto ampia rispetto all'impronta della scarpa, ha un sidewall molto alto, accentuato dal fatto che, chiaramente, come tutte le Speedlane, si prevede di poter estrarre l'intersuola, e l'intersuola già di per sé ha tutta la seduta, vedete, in contrasto la vedete, ha una seduta molto importante del piede, quindi il piede siede dentro alla scarpa. Però sotto c'è ancora schiuma, quindi è una soletta in PEBA, inserita in un'altra interssuola in PEBA. Qua si vede quella che è forse una delle novità della scarpa, se Speedlane, la PDX, arrivava già con la piastra ed era rimovibile, questa versione di scarpa in realtà la vendono sia con che senza piastra, ma di base. A noi l'ho inviata senza piastra, ma l'ho provato ad inserire la piastra, avendo la stessa taglia anche sull'altra Speedlane l'ho inserita ed è la stessa piastra di serie. Per lo meno quello, piastra in carbitex, quindi piastra leggerina. Sì, che ha un sistema di lock qui dentro. Perché sennò andrebbe ovunque. Ho trovato differenze tra piastra e senza piastra? No, perché si immerge in una scarpa molto alta e secondo me è una scarpa che può lavorare tranquillamente senza piastra. Non è molto snappy come un prodotto, un prodotto che punta di più sull'ammortizzamento e sul rocker, perché la geometria è molto importante. Infatti, rientrando da una frattura, ho avuto un po' di difficoltà a utilizzarla. E' una scarpa che ha una geometria importante davanti, ma anche molto molto larga dietro. Secondo me non è una scarpa facilmente attivabile solo di avampiede, va utilizzata in maniera più... Insomma, una gestione un po' più omogenea di tutta la scarpa, in maniera più equilibrata. Di pregio la lacciatura. E' il miglior utilizzo di doppio BOA LI2, quindi ASMRM. Quindi veramente la calzata è bellissima. E' unita al fatto che il materiale è meno plastico di quello di alcuni anni fa, due anni fa con la PDX. Tutto molto morbido. Tutto molto morbido. Da questo punto di vista ne parlavo anche con alcuni designer di recente, hanno detto questa trovata che hanno avuto l'oro di utilizzare un doppio BOA così fa la differenza. Perché un BOA solo può piacerti o non piacerti, questo è molto coccolo. E più che altro ti permette anche la personalizzazione del fit davanti e dietro. Io ho quei giorni lì che iniziamo a camminare con il piede in ripresa, potevo tranquillamente sganciare il primo BOA, lavorare solo col primo, poi gradualmente lavorare sul secondo. No, no, è molto assolutamente piacevole come scarpa. Se dovessi trovarci dei paragoni di mercato è una specie di erro, secondo me. Non è molto diversa in termini di... Cioè non è che solo perché c'è del PEBA dentro diventa una scarpa iper reattiva e anzi, cioè si perde un po' con tutto il suo solone. La suola non è niente di che, è il loro classico, la suola Michelin non fa impazzire. Customizzabile? Customizzabile, io l'ho customizzata con l'usura. Con il piede. Io che suppino tanto l'ho brasata qua. È una scarpa per far cosa? Una scarpa per correre. Per correre in posti che non sono qui da noi. Ma magari tu scani... Passatore, perché no? Una scarpa da 10 la vedo da strada. Quella volta avevano fatto un modello per le 24 ore su treadmill, ti ricordi? Abbiamo fatto un record o 12 o 24 ore su treadmill di quel loro tester che lavora tanto con loro. Sì. E l'abbiamo fatto una versione tagliando i tasselli. Ah ok, tagliando i tasselli. Sì, sì, sì. E quello che abbiamo visto, e forse non era nella nostra puntata di The Running Event, ne sta per uscire una versione col calzino. Col calzino, sì, esatto. Di cui non sappiamo niente, perché è stata una specie di spoiler di Free Trail. Io non ho capito se a stacco un po' più basso di questo. Mi pareva di sì, dal design, così, dalla preview. Però sì, di questo modello ne sono uscite altre due personalizzazioni. Non cambia nulla. Una viola. Uno è con il cacciatore True Hunter, quello che caccia con l'arco e le frecce. Con le macchie di sangue, una trashata spaventosa. E l'altro è il modello disegnato da Path. Ok, sì. P-A-T-H. Con il violetto. Esattamente. Ora l'avevo visto anche, ma non avevo capito se era un disegno con IA, anche uno con i colori della prima BDX, come tutto verde acqua. E loro alla fine fanno tirature limitate. Modello Oregon tipo, sì. Loro lavorano su questo, ma anche per questo, secondo me, non avranno mai nessun tipo di distribuzione per dire da noi in Europa. Loro fanno i pre-order e vivono così, certo. Molto bene. Passiamo a... Cosa abbiamo? Una delle cose che c'erano piaciute di più, o comunque da cui eravamo più interessati, su The Running Event. Altamesa 300. 300. Quindi la versione, diciamo, più light. Versione donna. Questa, allora, per contestualizzare, magari chi non ci ha ascoltato male. Male, malissimo. Altamesa è la nuova linea door-to-trail, ma soprattutto door-to-training, come la chiamano loro di North Face. Quindi vuole essere il prodotto di tier appena appena inferiore al prodotto Summit, che per loro sono le scarpe da gara, o comunque con un'accezione più racing. Queste qui, la linea Altamesa, si divide in due prodotti. Altamesa 500 e Altamesa 300. Sono due scarpe corribili, con stacco abbastanza alto, comunque sotto i 40 mm, sono 30 rotti in millimetri, poi ci devono fornire ancora i dati di fabbrica precisi. Sono due scarpe che non abbiamo ancora visto granché ai piedi, ma qualcuno questa l'ha vista in Mondovisione, perché Zach Miller ha... Champé? Sì, giusto. Champé ha cambiato scarpe. Pensavamo avesse messo una 500 all'inizio, perché è la scarpa più performante tra le due, e invece abbiamo, chiacchierando e vedendo un po' di zoomate, ha messo la 300, quindi questa scarpa qui è la scarpa da secondo posto all'UtmB. E nella parte forse più complessa all'UtmB, perché comunque tre salite grosse, tre discese grosse, insomma. Come si compone? Un unico strato di schiuma in eva, quindi questa è una eva super light, ma comunque una eva classica, diremmo, monoblocco, d'accordo? Alloggia un'impronta ampia, molto comoda, e una collarina estremamente semplice, con la linguetta di cui abbiamo già parlato anche con un Walden Gate, molto minimale. Sì, animale. E un bel loop di quelli già più sensati, anche se si vede che North Face lavora anche nel campo estetico. Assolutamente. Suola assolutamente diversa dalla linea Summit, che ci ha abituato al tutto suola, un po' aperto al centro. Qui rimane l'apertura, ma è molto semplice come suola, non promette follie, ed è una scarpa da terreno facile. La 300, a differenza di Altamesa 500, ha anche una struttura, un film protettivo, una pellicola, come ci abituava anche Salomon, per fare un po' da filtro sul terreno. La 500 non ce l'ha, la baratta però con una schiuma più morbida. Questa è una Eva semplice, invece la 500 ha un mix di Eva semplice e supercritica. Secondo me questa è una scarpa bellissima. Io penso che farà un bucchi. Questa secondo me sarà una scarpa bellissima. E sarei tra le due più curioso di provare la 500, ma la 300 secondo me è una scarpa bellissima. Tra l'altro codice dati GPS in suola, però è veramente una bella scarpa. Io che non mi sono trovato benissimo con Vectiv 2 nemmeno. No, neanche io. Secondo me questo è un concetto completamente differente ed è una strada che a me piace di più. Tra l'altro la schiuma è bella solida. È soda, sì. È firm, stai dicendo. Però hai comunque un po' di geometria che lavora davanti, quindi non è un mattone. È una bella scarpa. Mi dispiace che non devo avere ancora la taglia in mano per provarla a testare in presa diretta. Però sì, questa è una di quelle scarpe che sinceramente mi piacerebbe provare per test approfondito. Vediamo se riusciremo ad avere tra le mani qualcosa. Chiudiamo. Chiudiamo con, vai. Una stand alone di Topo che ho voluto includere perché ne abbiamo anche carato spesso l'anno scorso. Questa è la Mountain Racer 3. Quest'anno Topo esce con un paio di novità che devono ancora arrivare però. Però questa è una buona rappresentazione della direzione che sta prendendo Topo sul loro trend scarpe da lunghe distanze perché una volta Mountain Racer era la loro linea da terreno un po' più tecnico. Era caratterizzata, è una delle mie scarpe preferite all time, la Mountain Racer 2. Era caratterizzata da un toe box un po' più asciutto, da una suola Vibram ma tutto sommato scolpita identica a questa e da una zip foam, cioè da una schiuma mediamente morbida con dei rinforzi mediali per garantire un po' più di stabilità. Mountain Racer 3 l'avevamo già presentata in un paio di B-Side come scarpa più morbida con una zip foam a nuova densità, più alta, con uno stacco insomma un po' superiore che però tendeva a essere più morbidino. La prendo in mano, la metto in piedi, ha completamente perso il toe box che apprezzavo un po' più fasciante e è molto larga davanti. Sì, si vede. Molto molto larga e ci sono rimasto un pochino. Io mi ero trovato molto bene con la loro Ultra Venture l'anno scorso, l'avevo usata per fare i lunghi pro Tuscani. Molto molto bene, aveva una suola che non aveva niente a che vedere con questo tassello bello pronunciato da 4 mm. Molto alto. Invece qui mi ritrovo un po' alla scarpa vecchia con la bella suola grippante che è una bella suolone, cioè un bello zip foam molto morbido ma un po' dispersiva l'ho trovata. Ed è il primo 43 che ho provato che sento lungo, quindi attenzione, magari serve andare giù di mezza taglia. Cosa interessante, secondo me, è l'aggiunta di questi due loop sulle linguette che vanno a stringere praticamente sull'ultimo, poco prima di fare il nodo, e che tengono ferma la linguetta. Non so se la linguetta ha le cuciture interne. Sì, ce le ha. Quindi comunque rendono semplicemente più stabile e tutto quanto. Topo, io ho sempre preferito, anni fa preferivo correre con Topo rispetto a con altre perché io ho una pianta che richiede un po' di spazio, però mi piace perché Topo è molto asciutto sul mesopiede. Sì. Adesso, negli anni altra ha iniziato a stringere i mesopiedi e anche l'avampiede è un po' più asciutto. Topo è rimasto sempre con i mesopiedi asciutti ma ha iniziato ad allargare l'avampiede e ho iniziato a trovarmi un po' meno bene. Per cui voglio proprio correrci con questa per capire se è dispersiva davanti o se diventa un po', cioè se è controllabile o se serve avere proprio un piedone per usarla bene. Per il resto, la direzione che sta prendendo Topo anche con un altro paio di prodotti adesso è uscita la Pursuit e adesso arriverà un altro prodotto nuovo sulla primavera è quella di alzare un po' lo stacco e di usare questo nuovo composto di ZipFone che è più morbidino. Ecco. Però noi lo ridiciamo, approviamo la schiuma approviamo la scritta sulla schiuma. Assolutamente, anche se si rovina per noi è ok. Altra cosa particolare è l'angolo secondo me di chiusura del tallone, cosa che non hanno tante scarpe la rende un pochettino più compatta, un pochettino più solida da questo punto di vista però poi non sale tanto. Ho trovato delle difficoltà con un angolo di chiusura così adesso che ne parliamo con una Craft, la North Light Ultra che è una scarpa da ibrida d'Orto 3 però da lunga distanza e che praticamente è molto rotonda dietro e il tallone mio ma penso tutti i talloni anatomicamente non riescono a riempirla da dietro. Quindi ti ritrovi per quanto poco un po' spostato in avanti sulla scarpa e pensi caspita mi è cresciuto il piede che vado a toccare su una 43 no, semplicemente hai mezzo centimetro che non stai riempendo dietro anche questa mi sembra molto rotonda però provandola non ho sentito la stessa cosa. Anche Saucony mi pare facesse una cosa abbastanza di questo tipo però Saucony forse aveva anche il problema ma faccio riferimento a delle Peregrin secondo me di 2-3 anni fa che avevano una conchiglia molto rigida e quindi oltre a tenerti il tallone in una posizione forse innaturale rischiava anche di fare un pochettino di chafing o comunque di fare vescica dietro però insomma questo non è il caso del topo poi ecco disclaimer c'erano anche altri brand che potevamo toccare oggi ma si vede forse una puntata un po' troppo lunga e ripetitiva già pensavamo di andare corti su questo esatto e quindi c'era ancora c'è servista Saucony ma con modelli comunque tutti dell'anno scorso comunque che sono in transizione adesso e alcuni tanti brand con le novità non sono ancora arrivati Salomon non abbiamo ancora il prodotto in mano un altro paio di cose devono arrivare quindi secondo me questa è esattamente la stessa cosa di UTMB che ogni mese ne fa una e ci dà la possibilità di parlare esatto il fatto di poter avere delle scarpe più avanti le proverai e sarà registreremo una puntata con un effettivo test e ci darà la possibilità di registrare di nuovo e di parlare di scarpe inoltre per i nostri appassionati di The Long Run Scarpa Misteriosa adesso purtroppo abbiamo spoilerato un sacco di scarpe che sono arrivate però più avanti parleremo di Mari in quei dieci minuti un quarto d'ora di The Long Run ogni tanto parleremo di come si è rivelata la scarpa al test e quindi Mari qualche considerazione vista oggi ci sarà la review di quelle considerazioni lì tieni che conto che Marcello non ascolta B-Side perché ha una sua posizione religiosa e io ho la memoria di un pesce rosso quindi se se mi parli tra dieci minuti tra dieci minuti di una scarpa e ti dico non ho idea di cosa stai parlando però dai ci siamo direi che siamo arrivati al fine dell'episodio siamo andati ovviamente a lunghe questa volta però dovevamo guardare dovevamo toccare speriamo abbia ad ascoltato nel caso andate a vedere la puntata alla prossima alla prossima ciao I'm thinking that I'm always on the run away from nothing you're waiting to do I'm waiting to drop me it comes time oh we are we are not forever we are not